Dove va? Perché, oh, se lo sbaglio lei ha visto l'Inter-Milan com'è, ma come fanno noi fatta, noi eravamo in 100.000 allo stadio, quel dì, lei del B, Inter, lei del B, Milan, una porta all'altra, lei sorrise e poi dice sì, e poi finita la partita, la vi riuscire di sfuggita con uno sul tram. Ah, adesso lei mi deve dire chi è, è una questione di noi due perché, lei ha segnato un gol, lei ha segnato un gol, nella porta del mio cuore, l'ho capito che c'è solo lei per me, e l'ho capito che c'è solo lei per me, ma l'ho capito che c'è solo lei per me. Parabam, pam pam, pam pam, pam pam, e no, capito? Sono le rondine nel cielo, mentre vanno verso il mare, è la storia di un amore, io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore. Non parlerò là per il cielo, le sue notti nel mio cuore, stanno parlando di un amore. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore, dopo, alla fine, di un amore. Sì, 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 buona la prima.